Buongiorno a tutti i Telenicosiani, anche oggi domenica 7 giugno 2020, Maria Teresa Lavia vi augura una buona giornata con l'almanacco di Telenicosia. Sono le ore 7 in punto, il sole è sorto alle ore 5 e 35 e tramonterà alle ore 20 e 43. E' il 159esimo giorno del calendario gregoriano, essendo questo un anno bisestile, mancano dunque 207 giorni alla fine del 2020. Il santo venerato oggi è Sant'Antonio Maria Gianelli, un vescovo di Bobbio che si interessò dell'istruzione dei giovani meno abbienti. Cos'è accaduto il 7 di giugno? Nelle 1640, contadini catalani armati di falci entravano a Barcellona uccidendo i funzionari del re di Spagna Filippo IV e dando il via alle sollevazioni per l'indipendenza della Catalogna. Nel 1654, Luigi XIV veniva incoronato re di Francia. Nel 1874 avveniva l'inaugurazione del Teatro Politeama di Palermo, con i Capuletti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. Nel 1929 la città del Vaticano diventava uno Stato sovrano. Vi lascio adesso le previsioni meteorologiche e se volate ci risentiamo domani, sempre su Radio Telenicosia e sempre le ore 7 in punto. Ciao a tutti!